E se il dato non sarà, con gruò! La magistratura opererà, opererà. Io vi dico, ci stiamo sputando sangue, abbiamo bisogno che voi convergiate su di noi, ci date l'opportunità. Stiamo mettendo a posto una piattaforma. Ora, bisogna andare un po' in rete. Non ditemi che gli anziani non vanno in rete. Grillo, devi andare in televisione perché io non sono capace di usare un computer, non è vero. Non è vero, perché gli anziani non sanno usare. Andate a vedere i sondaggi dopo mezzanotte, sono tutti anziani e sono lì a guardare. Ma questo è una battuta. L'Inps darà dal prossimo anno le pensioni solo via Internet, quindi la gente quando è sopra. Adesso danno il cartaceo, ma è così tutto il mondo. Quindi gli anziani vanno su Internet, ci sanno andare su Internet. Bene, stiamo a mettere una piattaforma dove succederà una cosa, bellissima. dove i nostri parlamentari che sono i portavoce dei cittadini dentro il Parlamento potranno essere aiutati da voi. Loro prima di fare una legge la mettono su questa piattaforma. Tu vai a vedere. Tu hai fatto, cosa hai fatto da giovane? Cosa hai lavorato su cosa? Ero in fabbrica. Ero in fabbrica di che cosa facendo? Carta, carta. Carta. Sei un uomo che sa come si fa la carta, come si sbianca, come si ricicla, da dove si ricava. Sai tutte queste cose e te le devi tenere tu. Devono andare via la tua esperienza meravigliosa di 30 anni. Allora, se noi facciamo una legge sulla carta, sulla tassazione dei giornali, sei tu il primo a darci una mano. E avrai l'opportunità di dire avete fatto una legge che è una cazzata perché la carta, per esempio, riciclarla quattro volte non si può, lo sai meglio di me, diventa grigio, si strappa. Allora dovete fare questo procedimento. Lo sai fare tu, non io. E ti darei una mano e le metteremo la tua esperienza dentro la legge che esploreremo il Parlamento. Poi, 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 poi la seconda, la seconda cosa. Tu puoi fare, chiunque, avere un'idea di una legge ed esporla in questa piattaforma e darla ai nostri cittadini dentro il Parlamento che la propongono come legge perché è la tua legge. Noi vogliamo metterne la Costituzione. La possibilità che voi avete già statuto speciale. La possibilità in tutta la nazione, dentro la Costituzione, di fare i referendum propositivi senza cuore. Guardate che è la prima pietra che la democrazia aveva. Saremo noi a decidere se fare un ricassificatore, un'autostrada, una gironita o una pista centrale. Possiamo essere noi. Grazie a tutti. Il microfono a quella signora. Bene, come fai? Credo che ci abbia fatto molto, molto piacere avere Beppe che ci ha spiegato esattamente cosa sta succedendo a Roma. Hanno cercato di scaricarci la responsabilità, di scaricarcela. Noi ce la vogliamo prendere. Ci hanno chiesto i voti invece di chiederci cosa vogliamo fare. E Beppe credo ce l'abbia spiegato bene questa sera. Grazie. Ah, la maglietta te l'hai tolta, eh? Ti sei tolta la maglietta, capito. Ora copriti quel segno lì con la maglia. E ora dimmi, dimmi. Sto dicendo, no? Allora, il fatto che loro non ci fanno... Ecco, vai. Allora... No, no, è una televisione. Se ti dico chi non parli più. È meglio che non te lo dica. Il fatto che loro ci tengono all'oscuro di quello che fanno è la loro forza. Sì. Ok? Il fatto che tu metti in rete tutto e dice tutto e quanto alle trattate, davanti alle persone è la tua. Sì. Perché non usi questa forza per mettere loro... Vieni qua. 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 Perché questa è una domanda che mi fanno sovelli. No, beppe. Ciao, ciao. Se conosci la situazione di Venezia... Dice... No. Minorenza dell'Unione. Quanti milioni di euro arrivano? Vieni qua. E non arrivano alle cittadini. Sì, silenzio. La loro forza è quella di non farci sapere quello che succede. La tua forza è quella... Ehi. La tua forza invece è quello di mettere a corrente tutta la gente di quello che succede. Allora perché non usi questa forza per mettere loro alle spalle? Perché non li fai venire fuori tu? In televisione, dove ti pare, in qualsiasi rete, una rete, ce ne sarà una in Italia che ti può dare spazio e dello spazio è equo per tutti. Perché non porti tu le persone, tipo Bersani, Berlusconi, e gli dici, senti, davanti a tutte le persone d'Italia, perché voi non promettete di fare le nostre leggi che tu porti, delle leggi bellissime, leggi che tutte le persone condividono? Anch'io ho votato al Movimento 5 Stelle e non ho problemi a dirlo, ok? Perché tu non dici, noi vi possiamo anche appoggiare, noi vi possiamo anche dare la possibilità di governare, ma voi, davanti a tutte le persone d'Italia, pubblicamente, in diretta, promettete di fare queste leggi, che sono leggi per lo Stato, sono leggi per noi. Perché? Allora, hai detto una cosa bellissima, avete promesso di fare le leggi, ma questa gente ha promesso da vent'anni che promette, anni che ha promesso di cambiare la legge del Stato. Allora, tu pensi, questo movimento è arrivato al 25%, sai attento, al 25% è un miracolo, come? Con le piazze e con la rete, senza l'ausilio, con le televisioni che noi, queste sono televisioni, caro, eh, se tu parli dei talk show con Berlusconi, io non ci vado, perché, allora, noi li abbiamo messi con le spalle al muro adesso, ci sono, stai dicendo le cose che stanno succedendo adesso, il PD è con le spalle al muro, Berlusconi è con le spalle al muro, adesso devono scegliere uno che parla al culo a Berlusconi, al Monte dei Paschi di Siena e alla carriera penale di Berlusconi, e la gente sta capendo, e stiamo capendo tutti, è l'unica risorsa al Movimento, ne abbiamo messi con le spalle al muro, cosa pretendi di più, e cosa devi fare a dare in il talk show, c'è là indietro uno del talk show, vada, ti sta prendendo il fuori onda, se tu ti scappa una parolaccia adesso, che magari dici che cazzo dice Grillo, lui la registra, e manda una trasmissione sulla tua frase, sul cazzo dice Grillo, invece sei uno del Movimento, e allora, perché voi non capite una cosa, io l'ho fatta la televisione vent'anni, ho fatto comunicazione vent'anni, se in tre anni, con le televisioni contro, con i giornali contro, arriviamo al 25% del centro, è un miracolo, è un miracolo, la televisione non è quello che dici, è quello che si vede, tenetelo presente, l'ho fatta vent'anni, se io mi siedo lì, insieme a loro per il famoso contraddittorio, avviene così, è la regia dell'immagine che fa quello che dici, non quello che dici, perché tu puoi dire delle cose meravigliose, se c'hai Gasparri lì, e Cicchitto lì, sei morto, perché mentre parli, in quanto lo Cicchitto così, o mentre parli stai dicendo un concetto, io ho bisogno di concetti, e ti interroppono per la pubblicità, oppure il conduttore che hai lì dietro, mette e dice una cosa, legge un attimo, lei che cosa ha da dire, oppure se chiamano Scarpi, che mette e dici, dice, cazzo, 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 è questa la televisione, la signora, la signora, la signora, la signora, aspetta, aspetta, aspetta. Ripete. Dobbiamo fare qualcosa,Hyun c'è questo gioco. vuoi la risposta allora il fatto che tu non riesci ad andare avanti dalla tua azienda non è la responsabilità nostra perché siamo dentro il sistema da un mezzo e mezzo è la responsabilità di questa gente qua che stiamo mandandovi devi darci un po' di fiducia un po' di tempo lo so che non c'erai che non ti finirei più nessuno ma vieni dentro salda qua vieni dentro, ti iscrivi al movimento che cosa fai in tutti i lavori che cosa, che cosa produci non la vinci devi rischiare qualcosa rischia qualcuno tanta gente rischia di tutti allora che cosa fai vieni, vieni e lo so che è una battaglia per tutti ma io voi giocate voi giocate come ti permetti di dire che noi giochiamo ma guarda questa qua gioca questa gente ha un lavoro ha dedicato una parte della propria attività nel proprio tempo, nel proprio lavoro a voi gratuitamente mettendoci in sangue, in sudore e noi ci siamo noi andiamo andando a casa a casa e quando saranno fuori allora comincieremo ma andate i problemi di lei ma devono andare scusate 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 permesso 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 scusa scusa mi faccio stare prodi non ce l'ha fatta prodi non ce l'ha fatta prodi non ce l'ha fatta alleluia grazie a tutti di essere venuti a tornare permesso permesso io li foto metrò dall'altra parte permesso 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 dai a 100 km da qua fai un saluto a Tarvisio ma Tarvisio io ci sono già stato ci sono stato amici di Tarvisio cercate di resistere ancora un po' capisco che non abbiamo più tempo capisco che sta crollando tutto ma dateci l'opportunità di entrare dentro e stanno andando a casa tutti stanno andando a casa tutti non ci sono più 5 partiti se facciamo il ministro se facciamo il presidente facciamo un governo completamente diverso e riparte l'economia abbiamo bisogno di un segnale fai un saluto a Tarvisio Beppe la Tarvisio ti ama ti ama Beppe che vince Rodotà se il pitivo da Rodotà vince Rodotà mi sembra abbastanza chiaro questione matematica bene bene vuoi fare un saluto prima di chiudere la diretta ho esagerato un po' resisti fino a stasera Beppe ti prego c'hai Udine ma no ho esagerato come energie c'è la calda no ma nel sento come energie ti intende dire che hai esagerato come energie spese basta ok Prodi a fondo 395 il nostro Rodotà 213 stava rompendo il calcio parla di Tarvisio cazzo perla di Tarvisio